Io ci sono, mi chiede questo a me, ma a che ora è cominciato a piovere? Ieri mattina, ieri mattina presto. Una tragedia? Insomma, abbastanza. Ci sono molti danni, ha fatto molti danni, tante strade chiuse, frane, adesso... Ma questo è un ruscello, questo... Sì. E da dove esce, da un tombino? Ma io non so, proprio qua della zona, dunque non so bene da dove... Qui sotto c'era una strada dove adesso c'è l'acqua. Sì, un parcheggio. Eh sì, abitano qua in questi condomini ed è succeduta l'acqua intorno, non so, dovranno aspettare che defluisca l'acqua, che scoli. Non so, non so, dovranno aspettare che fai, che scogliate, non so, dovranno aspettare. Non so, dovranno aspettare che fai, che scogliate, non so, dovranno aspettare che fai, che scogliate. Beh, guardate che fai, che vuoi mesi, 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 mesi... Credo che a me, guardate, si cogliate... Grazie a tutti